Ma cos'è? Ok ragazzi eccoci tornati nella Tech Kit E sono questa volta in chiamata con Surreal Power Urent E sempre Kiri Haidel Oh Dio perchè l'ho fatto in coro? E' insopportabile A telecamere spente mi sono spianato tutto questo discorso qui Perchè stavo renderizzando un video e ora lo sto caricando Non vorrei laggare E cominciamo a costruirci la nostra casetta Ma che falle sto rumore? Questa è colpa di Surreal Sì sì infatti Sì è vero Questo è più bello però dai Ecco appunto Ah abbiamo scoperto ragazzi che è stato Surreal a fare tutto questo ambaradam Ma chi lo dice? Io non ho testimoni che mi incolpino di aver fatto ciò E come ognuno di non sa di non essere Ragazzi ma un creeper mi ha droppato un disco All'ammazzato uno skype così avanti Oh porca miseria è stato un valgono Il disco Ok Cosa faccio? Oh vado con un pezzo d'oro Ma non ci credo ma droppato un disco Ma ragazzi ma se andiamo a dormire che ne dicete? Ehm potrebbe anche Oddio questi creeper esplodono sempre in multiplayer Anche se io poi dovrò spostare il letto Ma vabbè perché sto ancora costruendo Vabbè quelli sono a dettaglio Un momento che torno Eh tu non hai un letto Io c'ero un letto E' quello che sta nella casa su Che non era quella di Darkim Sì sì è quella di Darkim Eh io ho detto Ehm Bravo complimenti Cosa vuoi che ti Ragazzi mi spammate un po' la chat per favore Io l'ho già spammata Luke Luke Come ho detto Alekir Basta che premia F7 in continuazione E ti stoppa e riavvia la Matmos E ti toghi tutta la chat Comunque l'ho scritto un milione di cose Non dovrebbe più fare Amore guarda qua Oddio Ragazzi io c'ho uno scheletro in casa Non posso entrare in casa mia Come faccio? Aia Ha aperto la porta Niente niente L'ho ucciso l'ho ucciso Ok Ok Allora F7 in continuazione Ah è vero bravo Surreal Eh Ho fatto un casino adesso Che mi si è aperto una cosa strana Quando è giorno Basta che premi tante volte sul letto E ti spammano Anche uno Ok io sono a letto Ok è il momento Che arrivo anch'io Mi stavo fregando il grande No non possiamo dormire ancora Abbiamo riscato Che ditemi quando ci siete Io intanto faccio un po' di lavori di giorno Io devo solo uccidere Ancora Levate i cochi Me li riprendo Che costano anche un occhio della testa Ragazzi entro domani mattina Perché andate alle devono andare via Chi è che ti spammano Non avessi ragni Testa Pensuali Ok Ragni in testa Ma dove cavolo siete? Eh Eh sul tetto ce l'avevamo Non potevamo dormire Surreal Mi si è aperta una barra Della matmos con il volume Come la tolgo Oddio Boh No ancora non si è aperta No ancora non si fa dormire Noi Oddio Oddio In fiducia Perché rompe? Ti vai fuori Guarda se non fissa una miniera No non esce Non vorrei che f7 proprio Ah ok è tolta Dovrei tenere schiacciato Perfetto Ah ho scoperto una cosa Ah il volume della matmos Perfetto Perfetto Tieni premuto f7 Tutorial in live non si se ho letto da me si guarda mia ho problemi andate a dormire sceglie abbiamo da qualche parte papone con il mondo ecco il quadro di bagarosti oh mamma mia volete una mano ma in un certo valutare io mi chiedo che altro vedo un'altra cosa quindi è meglio di spiegare morta m no 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 amore vieni aiutarmi se andiamo insieme che sono disarmata non sappiamo dove sono però ti voglio dove sono vieni sono qui davanti ce n'è pieno ce n'è un club qui un club ce n'è un club perfetto e vai via ragno schifoso vabbè vado vado a costruire al buio che devo fare si sotto casa mia il trapano ragazzi trapano io che guarda come buco ce ne sono eh lascia stare devo mettere delle torce che non ho torce mamma mia che lavoro non si dorme io ho deciso niente ho la casa a vedere se ho carbone o qualcosa non si dorme non si dorme perfetto io ho già sto in piedi ok ora io andrò a rimuovere i miei scherzi perchè sta diventando a parte quello di dark perchè ti devo ancora vederlo ora è un nuovo devo capire devo capire dove fare la casa che è un po' è un po' e' un po' a dormire ora ancora ok ora è tipo quella casa no ho lanciato via la spada ma che scusa con i mattoni di chi è la quei mattoni non lo sappiamo non lo so ma è giusto io devo andare ad esplodarla ora vediamo eh perchè io io mi devo metter da qualche parte qua vicino quindi complimenti quella era l'unica sponda è rimasta libera in realtà la realtà ti vedo con cosa tu stia facendo in casa mia eh non è vero si ti ho visto ci hai messo la terza al posto dei mattoni ti ho visto buiarda buiarda no sto stato io per muovere lo so ah ok vabbè vabbè oddio ma quanti mangi sono qua ma come son contento che ho le torce ti servono torce no no ce le ho ce le ho infatti son contento ho sonno buonanotte ma dormi in piedi Urent vedi vedi ho visto un ma ragazzi ma qua dentro ma che cazzo sono morto sono morto sono morto sono morto sono caduto nel buio in mezzo a tutti quanti gli stonzi qua davvero ma di chi è questa casa quanti cavolo ce n'è qua dentro ma non lo so c'è un buco lì vicino a dovevo farti la casa che ce ne sono 50 per parte porca miseria non posso più saltare ok li ho chiusi dentro occhio occhio le spalle tu questo è cooperation oh ragazzi stiamo litigando con 35.000 mob oddio non riesco più a risalire dovrei chiudere questo buco allora no prima lo cificalo eh ti toserò l'aiuola intanto sto analizzando l'ambiente vabbè quando vado ai materiali ok oh ma avete messo le torce grazie almeno il bocca ok posso costruire tranquillo no 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 aveva per lo meno giù sotto c'ho messo le torce non dov'è costruire ci sono due creeper però per la cronaca qui vedo non c'è risulta la testa anche alle spalle ma anche il bar chius non può dormire notte normale un po' un altro attento al crema ammazzato no quest'anno è perchè c'è un pulcino qui il pulcino bio muore le spalle oh oh no te l'avevo detto che è il palermo che non è la casa no la casa sta bene manca qualche vento chi è che mi sta facendo male io no c c io ti sigillo in casa con l'ossidiana sappilo guarda che buco no oddio ragazzi non mi portate il creeper a me per favore perchè c'è un pulcino qui ok possiamo dormire finalmente oh vai su si col vetro bucato vabbè noi cerchiamo di dormire dai lo ripareremo ma non mi fido perfetto se c'entra un creeper sul letto o se Saria ci murasse dentro cosa? Maria deve dormire adesso vai a nanna oddio perchè non ci sono le finestre ecco appunto no via di qui cosa ci fai tu qui vai a dormire vai vai a dormire no vai a dormire vai a dormire vai a dormire vai a dormire ok ok anche se ti fuori niente o mai la notte è finita inutile andare a dormire sì ma infatti eh bene infatti va bene va fregatura ancora non mi spiare nelle cestole basta basta chi è? io lo so ti c'è solo quello di Darkin Surreal ma tu c'hai una coltivazione di alberi ho visto da video laggiù oltre quel ponte largo 1? eh no no mi squilla il telefono mi squilla il telefono quindi meglio per te che non c'è anche se non tanto se c'era te la buttano giù no no dove non ho capito oddio vicino a casa tua ah dopo il ponte che ho costruito oddio che miseria mi squilla il telefono nessuno risponde eh dico io devo costruirci lì perchè è l'unico posto vicino alla manda al cane costruirci cc opp per messico stai no 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 ok allora mmm c'è un posto già scavato ben benino dove non troverò mai cose dove si può che roba devi inventare si la mia miniera io ho il sacchetto strapieno ormai anzi sai cosa ti dico che oggi andiamo a minare andate a menare? a menare si si andiamo un sacco di botte oh infatti se vuoi venire luke cioè c'è un paio d'occhi neri vai no 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 dove si incazza ah vabbè mi fa più uscire di casa ma ti incassigo ah e di avverso che esista ecco una versione più potente dell'allarme costa un occhio della testa su serio però fa un casino assurdo per te nemmeno testare salienti mente che tutte le cose fastidiose che esistono come modi le conosci tutte per un po' la cosa di la trasmutazione tempo di qualcuno perchè prendere il legno bianco la farò il legno bianco la casa che mi sta rompendo le scapole no i ragazzi quando c'è qualcuno che mi fa male c'è sempre sorriere in giro mistero della fede ok ok no ragazzi com'era il ram la sender con quello con la faccia della dell'escrizione dell'isla la la si la la cosa di natale si è la testo ne metti uno sopra l'altro ok a punto me lo faccio tutto figo che mi metto qua questa è quella cosa che mi inter ok 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 trovate oh auguri andiamo un mare quella casa di studio al power vediamo un po' cosa a disposizione il farà si si non ti preoccupare allora questi li metto qua tu non mi stai vedendo oh dove sei non so nemmeno se stai parlando con me non sto parlando con te infatti stai parlando ma tipo sta seconda sto secondo piano della torre cosa ci fai surra e devo dire ancora 10 pensare 25 8 ore a se nel gioco e se condizioni si paghi l'affitto e se lo dico mc dc foto con me non è che un po' oggi vuoi spiegare cosa vuol dire fattore per me non è che non è niente stasera ok no dc ma perchè ho due asci vabbè perchè sei un po' pone ecco appunto non è che c'è l'atricabitator nooo ma no nemmeno io vado a vedere cosa fa Luke io vado a vedere cosa fa Seville io vado a vedere cosa faccio io fare vero l'uomo allora siamo serve energia Luke no no adesso no grazie ok io butterei giù questi altri e costruisco qua mi sembra anche gusto io direi che è ora di una scherzetto allora vediamo io direi che questo albero potrei bruciarlo direttamente visto che è tipo troppo grande ma vai via da casa nostra tu via guarda che paghi d'affitto se continui io direi cos'è vabbè basta no no guardati allora no quest'albero non verrà mai giù parola mia parola di Francesco Amadori esatto bravo mi piaceva coltivare in casa grazie eh capirai guarda guarda che ti colpisco con la spada alla prossima ok usiamo il legno che ho appena tagliato per salire l'arbero così poi lo ritaglio di nuovo bene sono un genio eh io grifo le coltivazioni oddio io proprio mi propongo di fare di pagare un'affitta surreal ormai eh si ormai è di casa perchè dico tutti surreal? è surreal fatelo piangere no ma dico tutti surreal ma non è surreal ma infatti io non so perchè oh surreal perchè un cammino ho fatto no ecco ora vado in bagno e mi metto a piangere no buttate le terre sporcati tutto no nel bagno di casa vostra no nel bagno di casa vostra no eh eh ok arrivo un attimo ti serve una spalla su cui piangere? no ci sono io per te no ok scherzo io sto caricando il video in largo come una puttana che hai fatto? ok sto caricando il video in largo mi piace mi piace i blocchi dopo ah guarda se vuoi affittare un costruttore per tipo 3 diamanti al minuto io sono disponibile al minuto proprio al minuto al minuto ma vai a vendere le lavanderine lì le lavanderine ok posso togliere sta batbox che ormai non accumula più energia ti faccio le batterie e te le porto in casa ok luca? se mi fai le batterie guarda mi faresti un favore perchè le devo farle io ok ma grazie surreal ma che è tutta questa gentilità questa gentilità cioè guarda guarda questa che vi ha combinato davanti casa ma che cosa? oddio oddio cosa io non ho una casa invece è di una ricerca è di una ricerca è di una ricerca è di una ricerca che fappona devo giusto vestire un po' di verte un po' di capia si che posso dirlo va fangara non credo no sì anche fisicamente parlando basta non frequenti molto facebook vero Kylia? non ci sono mai stata iscritta né mai ci voglio essere ecco ecco fai bene perchè se no penso potresti rimanere offesa da ciò che ti dico sì 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 no